Ben ritrovati in nuovo appuntamento con parole 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 la nostra rubrica quotidiana dedicata all'analisi e all'approfondimento dei vocaboli della lingua italiana quest'oggi parliamo di principio principio il cui significato inizio prima fase origine oppure legge fisica o logica concetto fondamentale massima morale da cui partire la sua etimologia ci dice che è una voce dotta recuperata dal latino principium che a sua volta deriva da princeps cioè primo tre sinonimi possiamo citare inizio esordio avviamento avvio partenza origine fonte nascita tre contrari invece fine termine risultato conseguenza effetto oppure conclusione la frase emblematica che abbiamo scelto quest'oggi è una citazione di aristotele e dice senza causa o principio è impossibile che alcuna cosa esista o sia fatta ecco lui cosa vuole dire vuole dire che una ragione c'è a tutto quindi qualsiasi cosa noi facciamo qualsiasi azione noi o ovviamente chi ci circonda ma in generale alla base di ogni persona e di ogni azione c'è qualcosa un'origine un principio da cui scaturisce poi ovviamente una conseguenza un'azione o ciò che sia ecco questo è quello che vuole dire aristotele quindi vuol dire non esiste niente se non si parte da un principio se non si origina un'azione da qualcosa quindi ovviamente riflette proprio sul significato ed è per questo che l'abbiamo scelta sul significato del concetto di principio c'è qualcosa da cui ha origine poi un'azione un comportamento insomma può essere realtà e possono essere molte cose che hanno origine da un principio quindi è qualcosa che scaturisce un'altra cosa e quindi poi in realtà è la cosiddetta origine con la sua conseguenza siamo giunti al termine di questa puntata io vi ringrazio per averci seguito ovviamente vi ricordo le nostre pagine social facebook e instagram sicilia 24 e spazio notizia continuate a scriverci lì le parole di cui siete più curiosi della lingua italiana e le approfondiremo insieme nel corso delle prossime puntate grazie per averci seguito parole 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 torna domani ciao